Valorizzare le risorse femminili nell'ottica dello sviluppo delle pari opportunità. Nasce così il protocollo d'intesta sottoscritto stamani dal presidente della regione Gianni Chiodi e dalla consigliere regionale di parità Letizia Marinelli con i sindaci delle città capoluogo Mascia di Pescara, Brucchi di Teramo e di Primio di Chieti. Aderisce anche l'Aquila il cui sindaco Cialente è stato trattenuto per problemi familiari. Un patto che ricalca quello già firmato lo scorso 13 aprile con le quattro amministrazioni provinciali e che rappresenta solo un primo passo poiché il documento è aperto a qualsiasi altro comune voglia aderire. Tra gli impegni quelli relativi a favorire azioni di flessibilizzazione e riorganizzazione dei tempi lavorativi che tengano conto della vita di relazione, azioni per il coinvolgimento delle donne in politica e nei processi decisionali. Un risultato importante perché con questa adesione al protocollo firmato con le province abbiamo la possibilità di entrare più specificatamente in quelle che sono le competenze e le specificità dei comuni e quindi su questa adesione potremmo costruire delle azioni da poi promuovere sul territorio insieme con un coordinamento regionale e che quindi possa facilmente aiutare le problematiche legate alle donne. Con i sindaci quindi inizierà un altro tipo di percorso rinnovato con un ulteriore slancio nel discorso delle peri opportunità? Ad esempio nel campo della violenza di genere oppure nel campo della conciliazione è molto importante che con i comuni si riesca a fare un intervento armonizzato e faccio subito un esempio. Se noi prendiamo in considerazione la zona industriale Pescara Chieti ipotizzare un intervento di conciliazione anche di trasporti diciamo ognuno per conto suo non riesce di fatto a risolvere una situazione che è così vicina e ove le donne attraverso una possibilità di conciliazione dei tempi di vita e delle città in maniera armonizzata si riesce a fare meglio.